Il porto turistico di Capri ha già registrato il sold out di posti barca fino al prossimo mese di settembre. Sono infatti oltre 4.000 le prenotazioni, un dato che è cresciuto in maniera vertiginosa rispetto agli scorsi anni, in particolare per quanto riguarda i grandi yacht tra i 30 e i 60 metri. Per i mesi di luglio e agosto già c'è una lista di attesa, un record che conferma il trend positivo dell'Isola Azzurra. Il comune di Capri tra i pochi casi in Italia ad aver deliberato la gestione del porto turistico in house per i prossimi dieci anni e con investimenti di circa 15 milioni di euro in sicurezza, servizi, ambiente e sostenibilità. La società PTC, di totale proprietà dell'amministrazione, ha avuto il consenso per l'operazione dalla garante della concorrenza e del mercato. Superata la prova del G7 sull'Isola Azzurra lo scorso aprile, c'è grande soddisfazione per i numeri della società presieduta da Giancarlo Cangiano, che ha realizzato nel 2023 utili per 2,5 milioni di euro ed un fatturato di 11 milioni di euro. Brutte notizie invece per l'isola di Procida, dove sono stati rilevati irregolarità nelle registrazioni degli ospiti in strutture ricettive. Due le persone denunciate, un 41enne ed un 48enne, entrambi incensurati, in particolare i controlli dei carabinieri, si stanno concentrando per contrastare i fitti abusivi che negli ultimi anni, soprattutto nei periodi più caldi, sono aumentati. Durante il servizio dei militari, inoltre, è stato denunciato per furto un uomo di 69 anni, già noto alle forze dell'ordine, che avrebbe rubato la borsa ad una turista in Piazza dei Martiri. La refurtiva è stata recuperata e restituita.